A Catania i commercianti denunciano il pizzo, un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 31 persone. Inaugurata la Camera di Commercio di Palermo la prima sede regionale dell'Istituto Nazionale, revisori legali. Calcio, il Palermo cerca la vendetta col Biancavilla nel match di domani alle 15 a distanza di un mese dal K.O. in Coppa Italia. Nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 12 ottobre, diamo lettura delle notizie in sequenza. A Catania i commercianti denunciano il pizzo, un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 31 persone, accusate di appartenere alla famiglia Santa Paola Ercolano. Associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. Operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania in tutto il territorio nazionale che ha portato all'individuazione di 32 indagati, accusati di appartenere alla famiglia Santa Paola Ercolano. Il bilancio è di 21 persone in carcere, 10 domiciliari, mentre una irreperibile. Nel corso dell'operazione, il cui nome in codice è Black Lotus, è stato accertato, come già emerso in passato, che la famiglia catanese di Cosa Nostra è articolata in gruppi territorialmente localizzati, a capo di ciascuno dei quali è posto responsabile, tenuto a dare conto del proprio operato al reggente protempore dell'intero sodalizio. Negli anni 2015 e 2016 questo ruolo è stato affidato a Francesco Santa Paola, figlio del capo mafia Benedetto, ad Antonino Tomaselli e infine ad Alfio Ercolano. L'indagine è scattata nel marzo 2015, dopo la denuncia di un imprenditore vittima di un tentativo di estorsione. In particolare, l'indagine ha riguardato il gruppo di San Pietro, Clarenza e Barriere, il gruppo di Lineri, operanti nei territori di Camporotondo e Tneo, San Pietro, Clarenza, Mister Bianco e Belpasso, e sono state accertate e contestate oltre 30 episodi di estorsione, sia tentata che consumata, oltre a traffico di stupefacenti e di intestazione fittizia di società. Le indagini, rafforzate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno permesso di monitorare le imprese vessate che, come in alcuni casi, versavano importi che si aggiravano tra i 3.000 e i 5.000 euro anni a cadenze periodiche. Decisiva la collaborazione di oltre 15 vittime di estorsione tentato a consumata, con abbattimento del muro di omertà tipico di commercianti ed imprenditori che temono la forza del vincolo associativo. Inaugurata alla Camera di Commercio di Palermo la prima sede regionale dell'Istituto Nazionale Revisori Legali. Le interviste. Oggi siamo qui perché stiamo costituendo una sede regionale dell'Istituto Revisori Legali. da permettere che l'Istituto attualmente ha una sua sede legale a Milano, una sede operativa a Roma e questa qui a Palermo è per noi un'occasione di sviluppo per la Sicilia perché è l'unica sede regionale esistente in Italia. Quindi siamo ben felici di essere riusciti ad ottenere questa occasione, questa sede e ci auguriamo di poter portare avanti dei progetti sia come Revisori Legali per quanto riguarda l'Istituto Nazionale Revisori Legali e in modo particolare anche con un altro supporto di carattere tecnico che è chiamato lo sportello del Revisore. Lo sportello Revisore vuole essere un braccio operativo dell'Istituto e si occupa principalmente di tre aree, informativa, formativa e assistenza. Abbiamo creato un comitato scientifico che supervisiona tutte queste attività e quindi nella parte informativa noi forniamo tutto il materiale che serve per l'attività di revisione, nella parte formativa entriamo più nell'operativo quindi casi pratici di revisione, gestionali a confronto, analizziamo tutte le carte di lavoro e quindi facciamo tutta un'attività specifica su quelle che sono le checklist sia per quelle che sono le società di capitali, no profit e anche nel settore pubblico. L'ultima parte è quella dell'assistenza e voler dare un servizio di back office, non far sentire solo il Revisore in quello che è la parte operativa per dare tutto il supporto per arrivare a compimento quindi dalla prima parte della presa dell'incarico ai principali controlli delle aree di bilancio fino a tutta la parte della relazione finale, diciamo anche della continuità aziendale. Oggi qua a Palermo è veramente una giornata clou per noi siciliani soprattutto perché siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento della sede regionale dell'istituto questo fa sì che tutti i revisori legali possano accedere a quelle che sono le iniziative che saranno portate avanti dall'istituto stesso o dalle richieste che saranno fatte dai singoli revisori o delegati provinciali. Riteniamo a livello regionale di continuare ad avere quei rapporti con tutte le istituzioni, università, enti locali, formazione degli altri collegi ordine professionale o collegi professionali. La sintesi è quella che noi altri cerchiamo di uniformare, di avere una piattaforma comune per tutte quelle che sono le esigenze del revisore legale perché il revisore legale oggi ha una responsabilità maggiore rispetto a quella che poteva essere qualche anno fa, dovendo fare delle certificazioni di bilancio, di società e tutto quello che è attinente all'attività propria del revisore. Avevano illecitamente sottratto carburante e attrezzi di proprietà aziendali della RAP nel periodo tra aprile 2013 e settembre 2014. Ora i quattro dipendenti sono stati licenziati. Avevano rubato carburante e attrezzi aziendali. I fatti risalgono tra aprile 2013 e settembre 2014. Oggi sono stati licenziati i quattro dipendenti della RAP. A seguito di indagini della Polizia giudiziaria, anche supportate da video e pedinamenti, erano stati arrestati nell'aprile del 2015. Si chiude definitivamente un capitolo su alcuni licenziamenti portati avanti da RAP per giusta causa, che in un primo momento erano stati ritenuti illegittimi dal giudice del lavoro con una sentenza discutibile che da subito si era appalesata assolutamente carente nella motivazione e infondata. A darne comunicazione l'amministratore unico della RAP, Giuseppe Norata, che per mezzo del proprio ufficio legale, guidato dal dirigente Donatella Codiglione, aveva fatto riporso impugnando la sentenza. Lo stesso giudice penale del Tribunale di Palermo, Walter Turturici, lo scorso luglio, contrariamente a quanto affermato dal giudice del lavoro, aveva reso giustizia alla società chiedendo anche di procedere con l'estinzione del rapporto di lavoro e prevedendo altresì per i lavoratori la misura accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Oggi la sentenza della Corte di Appello, sezione controverse di lavoro, datata 10 ottobre 2019, quando il Tribunale accoglie l'appello fatto dalla RAP avverso l'ingiustizia, sentenza di primo grado, ravvisando le legittimità della condotta dei lavoratori coinvolti. Precisano i giudici che deve ritenersi dimostrata la partecipazione dei dipendenti all'attività di appropriazione integrante di degli estremi dei reati loro scritti e pertanto ritengono legittimo, sul piano del giudizio di proporzionalità, l'applicazione della più grave sanzione del licenziamento disciplinare. La RAP quindi attiverà tempestivamente il definitivo licenziamento, chiedendo tra l'altro di avere restituite tutte le spese del doppio grado di giudizio. La RAP li aveva licenziati, ma successivamente la sentenza di primo grado del giudice del lavoro, Paola Marino, del 7 gennaio 2019 li aveva reintegrati, riconoscendogli tra l'altro il pagamento della pregressa retribuzione oltre alle spese legali. In quell'occasione Giuseppe Norata aveva chiesto di fare il ricorso dichiarando allora che le sentenze si rispettano, ma nessuno può permettersi di danneggiare l'immagine societaria dei tanti lavoratori onesti e delle collettività per pochi che non fanno il proprio dovere. Evidentemente, dichiara il presidente RAP, l'operato dell'azienda era stato corretto. Prenotazioni visite al via il Sovra CUP, il sistema centralizzato di condivisione e prenotazione dell'offerta delle prestazioni sanitarie che punta a superare gli attuali limiti territoriali attraverso la cooperazione tra i centri unici di prenotazione provinciali. Ha preso il via il percorso che porterà alla realizzazione del Sovra CUP integrato, il sistema centralizzato di condivisione e prenotazione dell'offerta delle prestazioni sanitarie che punta a superare gli attuali limiti territoriali attraverso la cooperazione fra i centri unici di prenotazione provinciali. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati perfezionati i contratti tra la regione siciliana e il raggruppamento di imprese formato da Almaviva, Almawave, Indra Italia e PwC, Coopers Advisory. Il progetto ha messo in campo al governo musumeci nell'ambito di un più vasto piano di digitalizzazione della Sicilia, prevede dei rilasci progressivi con la messa in esercizio del sistema a gennaio 2021, che avverrà federando i CUP di Catania, Messina ed Enna, per poi includere nella primavera dello stesso anno tutte le strutture pubbliche e private del sistema sanitario regionale. Di fatto, mediante il Sovra CUP, si agevolerà l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario, facilitando l'accessibilità alle strutture prerogatrici di prestazioni specialistiche. Sarà così possibile evitare le prenotazioni multiple che allungano notevolmente i tempi di attesa e si avrà inoltre un costante monitoraggio delle liste d'attesa e dell'appropriatezza delle prescrizioni. Tra le novità più significative c'è l'interfaccia web, un portale che permetterà a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle prestazioni, dagli operatori CUP locali a medici di medicina generale, dai farmacisti e ovviamente al cittadino stesso, di effettuare e gestire una prenotazione provvedendo anche al pagamento del ticket tramite PagoPà. Il cittadino in pratica avrà a disposizione un'app per la prenotazione delle visite che tramite lettura del codice a barra della ricetta dematerializzata gli ricorderà poi la data e l'appuntamento, dando anche le indicazioni del percorso per il raggiungimento della struttura sanitaria che erogherà la prestazione. Il progetto ha una durata di 30 mesi per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Ascoltiamo adesso il segretario generale filea CGL Palermo, Piero Ceraulo, sullo stato dei cantieri in città e provincia. Possiamo tranquillamente iniziare anche dall'opera del passante ferroviario in cui è stata impegnata la SIS per 10 anni circa, opera che avrebbe avuto l'obiettivo di creare il raddoppio ferroviario dalla stazione centrale all'aeroporto Falcone-Borsellino. Dopo 10 anni quest'opera rimane ancora incompiuta, ci sono all'incirca 60 milioni di lavori edili da svolgere con il problema che la SIS è andata via perché c'è stata una recessione contrattuale e oggi RFI dovrà riappaltare tutti questi pezzi di lavorazione. Per quanto riguarda il cantiere dell'anello ferroviario che i cittadini palermitani conoscono benissimo perché è una di quelle infrastrutture che ricade nel cuore della città, finalmente lì si sta avendo un aspetto positivo perché Tecnis è uscita fuori perché ha venduto il ramo d'azienda e quindi è subentrata l'Ad Agostino che adesso ha ampliato, sta cominciando ad assumere personale e quindi si spera e si auspica nel giro di breve di vedere un'attività di cantiere molto più complessa e molto più spedita. Se usciamo fuori dalla città ovviamente abbiamo una situazione ancora un po' più ingarbugliata, ad esempio la Palermo Agrigento ferma da mesi perché la CMC, azienda colosso delle cooperative che è stata interessata da una procedura concorsuale, ha di fatto sospeso le lavorazioni e mettendo i lavoratori in cassa integrazione per 12 mesi. Quindi al momento ci sono alcuni affidatari, alcune ditte diciamo in subappalto che stanno svolgendo alcune lavorazioni ma il grosso degli operai è in questo momento in cassa integrazione e noi come organizzazione sindacale avevamo più volte ribadito la necessità di intervenire, lo abbiamo chiesto al governo precedente, lo chiediamo al governo attuale perché appare paradossale collegare due comuni come Palermo e Agrigento che in 100 km, per fare 100 km ci si sta 4 ore. Da qualche settimana abbiamo riscontrato invece sul fronte Cefalù, quindi il raddoppio ferroviario che va da Ogliastrillo a Castelbuono, finalmente anche là segnali positivi in cui la Toto Costruzioni sta cominciando a cantierizzare diciamo lì la zona. Rispetto invece a quello che noi abbiamo sempre detto e quindi di mettere mano ai progetti e di far uscire qualcosa che possa rimettere un modo l'edilizia nella nostra città ma dico in Sicilia in generale, lì noi abbiamo provato a dare anche il nostro contributo. Rispetto al patto per Palermo ad esempio ci sono opere importantissime come quella delle linee tram, oppure la realizzazione di due poli scolastici nell'area nord e nell'area sud, tutti questi pezzi, quindi infrastrutture, edilizia scolastica, riqualificazione dei centri storici, questo per noi è il sale secondo cui si può veramente fare ripartire l'edilizia in questa città. Palermo, la Polizia di Stato partecipa alla campagna europea sulla sicurezza stradale Track & Bus. Intensificati i controlli dei mezzi pesanti su tutte le arterie della provincia. Nel periodo compreso tra il 14 ed il 20 ottobre prenderà il via un'ulteriore fase della campagna europea congiunta denominata Track & Bus, promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali TISPOL, la rete di cooperazione tra le polizie stradali nata nel 1996. L'Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno e attualmente ricopre la presidenza onoraria. L'organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le polizie stradali europee con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime e degli incidenti stradali in adesione al Piano d'Azione Europeo 2011-2020 attraverso lo svolgimento di operazioni internazionali congiunte per il contrasto delle violazioni al codice della strada e la promozione di campagne tematiche all'interno di specifiche aree strategiche. L'obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal gruppo operativo TISPOL. Lo scopo della campagna Track & Bus programmata nel periodo del 14 al 20 ottobre 2019 è di intensificare su tutte le arterie europee di grande viabilità i controlli dei mezzi pesanti adibiti al trasporto commerciale dei autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose sia di immatricolazione italiana che straniera. In tale contesto, nell'ambito di questa provincia, gli agenti della Polizia Stradale di Palermo procederanno alla sensibilizzazione dei servizi di controllo volti alla verifica dello stato psicofisico e dei conducenti del rispetto dei limiti di velocità, del rispetto della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose e di tutte le prescrizioni sull'autotrasporto in genere previste dalla normativa nazionale ed europea secondo modalità strumenti omogenei ed obiettivi comuni e condivisi da parte di tutte le polizie stradali dell'Unione. Anche la scuola media Cirocianna di Bagheria ha aderito all'Erasmus Day, una tre giorni europea dedicata ai progetti Erasmus. L'evento, che è stato pubblicato anche sul portale europeo, è stato un meeting tra scuole, dalla primaria Cirincione al licio classico sulle buone pratiche della progettazione europea. Oggi è una giornata organizzata in tutta Europa, proprio dall'11 al 13 di ottobre, per realizzare e parlare delle manifestazioni che sono state effettuate con gli Erasmus. In particolare noi oggi presenteremo i progetti che sono stati realizzati nell'anno precedente e dissemineremo un po' i risultati raggiunti non solo in questa scuola ma anche in scuole del territorio come la scuola elementare Cirincione, il liceo classico Scaduto e partecipano anche altre scuole del territorio come il liceo scientifico d'Alessandro. Ognuno presenterà la propria esperienza e questo servirà proprio per cercare di fare rete tra tutte le scuole in modo da poter creare proprio quello che avremmo intenzione di realizzare, un curriculum verticale europeo in quanto l'obiettivo fondamentale è quello di sviluppare negli studenti proprio il senso della cittadinanza europea e soprattutto il senso dell'intercultura e della mobilità europea. Noi abbiamo investito tanto, due anni fa, su questi progetti Erasmus e due anni fa per questa scuola in effetti è stata una grande novità. Sono stati approvati tre progetti di K2, un progetto di K1 per la formazione dei docenti. Il progetto di K1 si è concluso l'anno scorso e ora si portano a conclusione i tre progetti di K2, quindi partenariati strategici che hanno visto coinvolti parecchi alunni oltre che docenti della scuola Ciroscianna e consegno questo bel lavoro alla nuova dirigente della scuola Ciroscianna, la professoressa D'Amico che sono sicura lo porterà avanti con lo stesso entusiasmo. L'Erasmus è una grande ricchezza per le scuole, è una grande fonte, una fonte proprio inesauribile di stimoli, di conoscenze nuove, di confronto. La scuola Cirincione è una scuola che ci conosce sul territorio molto attenta alla partecipazione dei propri studenti all'apprendimento europeo delle lingue. Sappiamo che investire sulla multiculturalità, sulla lingua, sull'apprendimento delle lingue non si investe solo sul singolo, solo su sostituzioni, ma sulla crescita della società in tutti i sensi. L'opportunità della mobilità sono tantissime in termini di competenza digitali, in tempi professionali, nuove conoscenze e soprattutto anche allargare gli orizzonti dei docenti, quindi culturali e professionali e dei nostri alunni. Quindi ringraziamo la dirigente Giuseppina D'Amico che ci ha dato questa opportunità di essere presenti e partecipare a questo evento di grande valenza formativa e culturale. A Bagheria è incessante il lavoro della Caritas per aiutare le famiglie più bisognose. In questo centro che io definisco di economia circolare, solidale e dà una mano sia all'ambiente per tutto il materiale che noi raccogliamo e soprattutto ai nostri fratelli. In questo centro si raccoglie tutto, sia abbigliamento, scarpe, borse, ma anche arredi per la casa, utensili, tutto quello che è, può avere una nuova vita. I volontari stanno qui due volte al giorno, sia dalle 9 alle 13 che dalle 15 a 30 alle 18 e hanno la disponibilità massima a raccogliere e a ricevere tutto quanto le persone possono portare. La cosa che è importante è che non venga lasciato nessun materiale a porte chiuse, perché lasciandolo a porte chiuse non diventa più un duvento da donare. Sì, il nostro è un accorato appello più che un invito, perché facciamo molta fatica. I volontari danno veramente la loro massima disponibilità per tenere qui tutto pulito, per dare un servizio di primo ordine, perché la gente che ha bisogno ha diritto ad avere delle cose in buono stato, ad essere accolti, ad essere aiutati nel loro bisogno e a trovare anche un luogo accogliente, per cui per noi la pulizia, l'ordine è molto importante. Nel momento in cui le persone lasciano i sacchi durante tutta la notte, devo dire, ma anche nei momenti di chiusura, nei brevi momenti di chiusura, mi permetto di dire, perché noi siamo sempre qui sei giorni su sei a disposizione di tutta la città e della comunità, quando queste persone lasciano questi sacchi diventano rifiuti, noi non li possiamo più utilizzare, non ne possiamo prendere più nulla, quindi vengono destinati al macero ed è un vero peccato. C'è veramente tantissimo materiale qui, conservato tra l'altro in buono stato, da dove proviene la gran parte di questo materiale? Intanto appunto dalle offerte dei cittadini, cioè di tutto quello della generosità che i cittadini hanno nel portare le cose, ma anche di alcuni esercizi commerciali, per esempio che cessano l'attività e quindi quanto hanno in magazzino viene portato alla Caritas, ma anche la Guardia di Finanza che quando sequestra materiale, una parte di questo materiale viene dato alla Caritas. Certo, negli ultimi giorni abbiamo vissuto un po' di maremoto, perché è uscito un articolo che 116 paia di scarpe erano state donate alla Caritas e quindi naturalmente tutti ne hanno fatto richiesta. In realtà non è così, io ci tengo a dirlo. Sicuramente la Guardia di Finanza ha sequestrato questo materiale, ma è stato devoluto intanto in diverse associazioni e realtà anche a Palermo, dico soprattutto a Palermo. E poi a noi è arrivata una piccolissima quantità che è stata data a quanti ne hanno bisogno. Calcio, il Palermo cerca la vendetta col Biancavilla nel match di domani alle ore 15 a distanza di un mese dal KO in Coppa Italia. Trasperta in terra etnea per il rosa nero a caccia della settima vittoria consecutiva. Vigilia di match per il Palermo che domani sfida il Biancavilla fuori casa. Una partita che se vinta potrebbe permettere il rosa nero di mettere a segno la settima vittoria consecutiva. Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi ha ancora qualche dubbio di formazione, ma in avanti dovrebbe schierare Ricciardo che sarà probabilmente supportato da Ficarrotta e da Felici. Eccole le parole del tecnico in sala stampa. Dobbiamo valutare sia le condizioni di Martin sia la condizione di Lancini che ha avuto una distorsione alla caviglia e quindi la stiamo valutando adesso di Lancini. Di Martin siamo abbastanza ottimisti, però dobbiamo anche vedere come risponde. Pur di sentimento muscolare all'adduttore, mentre Lancini non si capisce se è stata una distorsione o proprio un blocco della caviglia, quindi una cosa sua. Vorrei andare in maniera cauta perché sono convinto che poi con lo staff che abbiamo possono essere recuperati. Ma io ho sempre detto che comunque la nostra rosa è ampia e tutto e mi piace valutare le situazioni ora dopo ora e quindi siccome ci sono più di 48 ore di tempo ancora, quindi 48 ore, più di 48 ore, 52 quante sono? Ci abbiamo tempo per pensare a questo. È una partita che ha in pali tre punti come tutte le altre, loro conoscono noi e noi conosciamo loro, quindi credo che cercheremo comunque di fare qualcosa che nella partita di Coppa Italia forse abbiamo sbagliato e qualcosa da migliorare in altre situazioni. Io credo che poi l'eliminazione è servita a noi, ma sappiamo che comunque ci poteva anche stare, ma sappiamo che per noi il campionato è la priorità e quindi andiamo avanti con il campionato. A parte, ripeto, a parte sia Martin che Lancini, poi gli altri sono tutti recuperati, Sforzini, Santana, tutti. In questo credo che dobbiamo essere noi a farcele sentire come una motivazione, non come un appagamento, perché quello che ho detto io alla squadra e che continuo a dire è che per vincere un campionato devi fare a meno, penso, dalle 25, dalle 28 partite. Ne abbiamo vinte 6, quindi ne mancherebbero? 22. Che montagna c'è ancora da scalare, quindi personalmente dobbiamo ancora rifornirci e dobbiamo andare meta dopo meta, postazione dopo postazione. Siamo a una piccola postazione in questa montagna, quindi la fatica sarà tanta, tutti dicono che la Cireale sia l'Ausader numero uno per il Palermo, io non credo a questo perché credo che ci saranno altre due, tre, quattro squadre che lotteranno col Palermo e sarà un campionato difficile, come io ripeto, dal primo all'ultimo giorno, quindi non stappiamo nessuna bottiglia di spumante, ma comunque rimaniamo via di per terra perché se no prendiamo qualche schiaffone che ci può anche mettere capo. Io dico che loro, ogni allenatore, ogni società dà motivazioni e dà modo, è bello, comunque sapere che ci sono altre squadre che hanno l'obiettivo che c'è anche il Palermo, noi rispettiamo tutti, è giusto che loro stanno facendo bene, è un'ottima squadra, è allenata bene, ma oltre a loro stanno facendo altre squadre bene, però questo per noi deve essere un modo per dare di più negli allenamenti, per impegnarci di più, ma sapendo che comunque tutto passa da noi stessi e non dagli altri, quindi se noi riuscissimo da oggi a vincerle tutte, probabilmente saremmo già in Lega Pro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione prestata, vi auguriamo un buon fine settimana. Grazie.